calvo occhio che ti sparano dal culo hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore prendere il contenitore di biorischio ultimo attaccante rimasto in vita non so se era un alleato magari non si vedeva bene no porca merda l'attacco eliminata è spaccato la la cosa un genio vabbè immaginavo ci sta quando c'è l'ultimo guarda guarda arriva il primo sentilo sentilo guarda come si sta gasando